Buongiorno a tutti, ciao Gino, questo è un filmato che ti dovevo fare molto tempo fa Vi spiego la struttura del cartongesso con gli appendini Allora, prima si prende la misura e si mette la guida Con il laser si fa la misura e si gira tutto intorno alla stanza Poi ci sono gli appendini Lo appendiniamo questo soffitto I tasselli, o normali, se è pieno, se è vuoto, a farfalla Una volta fatti i buchi, mettiamo il nostro appendino, sempre con il laser Lo tagliamo, prima di tagliarlo dovete infilare questo Il gancio ottagonale Il gancio ottagonale, grazie Mishu, che lui se li ricorda sempre Che dopo si darà la misura, una volta appeso Si mette prima quello importante, quello sopra Sempre con il laser si fa tutta la misura Siccome la stanza è lunga Si mette l'aggiunta Si mette l'aggiunta e si infila Quando avete finito tutto, si mette sotto a 60, 80, 40, dipende dalle lastre Si mette sotto un altro montante E viene agganciato Adesso faccio vedere Il resto è questo Si chiama Io lo chiamo il cavaliere Tu gli ottagonali Si chiama gli ottagonali Il gerbo giusto Va infilato E poi Queste labbre Vanno schiacciate in dentro Che c'è un piccolo supporto Una volta fatto questo Avete il vostro soffitto Poi tagliate le lastre a misura Non abbiamo questi Perché stiamo facendo quelle Termo? No Sistema termico Radiante Pannelli radianti Pannelli radianti termici Se vedete Ha il disegno della serpentina Che è il riscaldamento al soffitto Questo Il carattacco Non si piace Come si va a tagliare Il paneo di con Un po' Il carattacco Il paneo di con Il paneo di con Un po' Il paneo di con Il paneo di con Il paneo di con Il paneo di con saluta Antonio una volta tagliato si fa lo smusso per l'attucatolo queste non sono le malate di tagli va tagliato, va riempito, poi messo la carta che va stoccato, poi sono stati agganciati l'idraulico ha fatto tutti gli agganci quelli disegnati al riscaldamento quelli senza, no, perché dopo ci andranno i pareti dentro, poi andrà tutto rasato ok, questo è un soffitto finito con i pannelli radianti, che si vede i segni questi disegni qua, dove passano tutte le serpentine nell'acqua calda e anche fredda perché fa caldo e freddo e dopo si mettono i suoi tappi e viene tutto stuccato niente, tutto qua, questo filmato qua io lo dovevo farlo molto tempo fa per il signor Gino e ho preso l'occasione e l'ho fatto come sempre ringrazio a tutti vi lascio la mia e-mail grazie a tutti, al prossimo video